L'appuntamento ormai tradizionale dell'orchestra regionale toscana con il concerto del 25 aprile giunge quest'anno alla sua decima edizione. Dopo il grande successo di Metropolis, proiettato ed eseguito lo scorso anno, quest'edizione vede ancora una volta protagonista un grande film mutuo. Si tratta di The General di Buster Keaton, conosciuto in Italia con il titolo Come vinsi la guerra, la cui colonna sonora sarà eseguita dal vivo durante la proiezione. Da anni la regione toscana si impegna con l'orte, attraverso l'orte, a ricordare il 25 aprile. Quest'anno l'orchestra regionale della Toscana lo fa attraverso un grande film, proprio appunto per sottolineare quanto la cultura possa parlare a proposito di valori fondamentali come quelli ricordati dal 25 aprile. Lo fa col film The General di Buster Keaton e con il grande onore di avere con noi Timothy Brock, che verrà appunto a dirigere e quindi appunto a essere presente lì con noi. Per noi è estremamente importante ricordare quanto la regione toscana investe su quello che è l'universo complesso e importantissimo della memoria. La pellicola è del 1926, ottavo lungometraggio di Keaton, l'ultimo che firmò come regista, probabilmente il più visto, uno dei più compatti per ritmo, ricchezza delle invenzioni e cura maniacale della ricostruzione ambientale. È il caso orario di un film comico che ha anche un trascinante racconto d'azione e d'avventura. Le musiche di The General sono totalmente originali, scritte nel 2005 dal direttore d'orchestra e compositore americano Timothy Brock, che dirigerà l'Ort e che può vantare una carriera straordinaria costruita proprio sullo studio appassionato della musica del cinema muto. Sono musiche scritte da Timothy Brock, che è un direttore e compositore che da tantissimi anni si occupa, è specializzato proprio nel recupero di vecchie partiture. Ricorderete che da 15 anni porta avanti un lavoro di recupero delle partiture di Charlie Chaplin, le ha riscritte, riorchestrate e qui ha scritto delle musiche originali appositamente per questo film. Naturalmente stiamo parlando di uno dei film più importanti della storia del muto. L'ingresso, come da tradizione, è libero ad inviti. Questi sono già in distribuzione fino ad esaurimento presso la biglietteria del Teatro Verdi. Quest'anno torna anche l'appuntamento con l'anteprima straordinaria per le scuole. Sono già quasi mille gli studenti toscani che hanno aderito all'iniziativa e che arriveranno da tutta la regione. In tema di nuove generazioni, il manifesto ispirato all'opera dell'artista writer inglese Bansky è stato realizzato da Elisa Dellungo, una giovane designer neolaureata dell'Isia di Firenze.